Tutti a disposizione, ci sarà anche Vergani nella sfida del Manuzzi in programma sabato prossimo alle 16.15. Diretta in chiaro sul rete alto con ampio pregara dalle 15.15. Il Pescara affronterà la super capolista Cesena ad un centimetro dalla promozione in B. Appena 2KO ancora imbattuta la squadra di Toscano davanti al pubblico amico. Per il tecnico Biancazzurro Emanuele Cascione sfida dal sapore speciale. Il doppio ex da nove giorni è il nuovo allenatore del Pescara e da giocatore ha indossato le maglie di entrambe le squadre. A Cesena ha giocato cinque anni dal 2013 quando salutò il club Biancazzurro al 2018 centrando una promozione in Serie A al termine della stagione 2013-14. Ha referto anche il gol del successo nel ritorno della finalissima playoff con la Latina in terra laziale terminata 1-2 per l'11 allenato da Pierpaolo Bisoli. In totale 124 presenze, 29 in A e 11 gol. Nella sua lunga militanza in bianconero Cascione è stato alle dipendenze di cinque allenatori Bisoli, Di Carlo, Drago, Andrea Camplone e Castori. Vista la sua duttilità e intelligenza tattica proprio con Andrea Camplone l'ex centrocapista Biancazzurro. Ha giocato diverse partite anche da centrale della difesa 3 con ottimi risultati. Per Emmanuel Cascione sarà senza alcun dubbio una sfida dalla Sapore Speciale. In caso di vittoria sarebbe la 27esima in 34 partite di campionato. Il Cesena potrebbe centrare l'aritmetica promozione in B con quattro turni di anticipo, sempre che domani sera la Torres non faccia bottino pieno a gubbio. Le ultime sulla società. Ieri è contatto tra un gruppo di industriali di Milano e Sebastiani. La richiesta non riguardava l'acquisto del club. Questi fatti la segreteria del sindaco di Pescara Carlo Masci era stata contattata venerdì scorso dal rappresentante di un'associazione di industriali di Milano che sembrava fosse attratta dalla possibilità di rilevare il Delfino. Era stato lo stesso primo cittadino di Pescara a rivelare l'accaduto tre giorni fa nel corso della nostra domenica sportiva. In realtà ieri il rappresentante della suddetta associazione ha telefonato al presidente Sebastiani per chiedere se la Pescara Calcio fosse interessata a comprare i crediti fiscali degli industriali di Milano. Dunque nessun interesse per il club ma una richiesta completamente diversa.